Allora amici vedete io ho la telecamera dell'altro telefonino e qua vedo tutto cosa sta accadendo. Ora osservate lo schermo del telefono quando ci passo davanti. Ecco, vedete, sentite degli avvisi. Bene amici, avete visto che con un semplice dispositivo, con un semplice telefonino nascosto è possibile visualizzare tutto ciò che accade nella vostra auto, nei paraggi della vostra auto, sente rumori, vi avvisa se c'è uno schiavo a cio, quindi la considerano un'app fondamentale ed economica. Eccoci qua, il consiglio che vi do è di valutare, valutate, perché ognuno ha le sue abitudini. Se però volete risparmiare 200-300 euro di telecamere, wifi continuo e no spot, quindi un altro cellulare, se volete, potrebbe essere una buona, validissima soluzione. Ciao e se trovo altre app ve le linko. Ciao!